Benvenuti ai nostri cari follower. Se un avvertimento molto grave e urgente, lunedì all'alba si abbatterà sull'Italia un temporale molto forte. 28 agosto e poche ore da adesso, con forti grandinate, rischio di allagamenti, forti venti e maltempo. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenerci con ammirazione per questo video per motivarci a continuare. Grazie. Quindi, come potete vedere nella mappa davanti a voi, piogge molto forti in rosso e viola, indicato anche dai modelli europeo, americano e canadese. Questa pioggia sarà sotto l'impatto di un tuono e sarà accompagnata da una forte caduta di grandine, con un vento molto forte e un mare molto dilagante. E si prevede, come dicevo, che si prevede una grandissima quantità di pioggia che questo temporale porterà, a partire dalle prime ore dell'alba e domani mattina, lunedì. Continuerà per le prossime 72 ore e tutte le regioni del nord e del centro Italia saranno fortemente interessate da questo pericoloso nubifragio, per cui è necessaria la massima prudenza. In Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto, Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio. Finalmente sei in buona salute!